Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Lucian Stout e oggi parleremo di un tema abbastanza complesso da spiegare, ovvero come portare avanti skill e fase di massa insieme. Vi dico già che tutto quello che vi sto dicendo ora è frutto dalla mia esperienza come coach, non come atleta, anche se in passato, per chi mi segue da tanto tempo, sa che ho cercato di portare avanti per anni tutto per diventare l'atleta completo. Quindi allenavo gambe, freestyle, zavorre, skill. Sulle skill ero arrivato abbastanza a un buon livello, poi ho dovuto mantenere e poi fino a perdere quasi tutte le skill complesse che facevo. Ma questo perché ve lo dico? Perché ero un atleta a sé, nel senso che ero abbastanza portato, non mi reputo in grado di portare la mia esperienza come atleta come esempio. Ok? Perché appunto atleti come me, mi spiace dirlo, ma è così, ce ne sono ben pochi che possono fare tutto insieme. E poi io avevo un altro background, ovvero avevo fatto per tre anni skill, ero arrivato a un buon punto, quindi lì dovevo solo più mantenere, non dovevo prendere una nuova skill, ma dovevo semplicemente mantenere con il nuovo peso raggiunto. Quindi è un po' diversa la situazione. Anche perché la maggior parte di atleti grossi, fisicati enormi, con anche skill possenti che vedete, è portata. Cioè c'è poco da dire, la genetica in questo tema copre un ruolo fondamentale. Cioè così la maggior parte delle persone che fanno skill assurde sono di fisicità media, piccola, ok? Ma non c'è nulla di male, è proprio così. Sì, trovatemi almeno dieci persone, cioè capite bene che su tutte le persone che si allenano, se solo così poche sono sia grosse, sia definite, sia che hanno skill, c'è qualcosa che non va. È proprio per una questione di genetica. Quindi tutto il video che vi porto oggi è frutto solo dall'esperienza come coach che mi sono costruito, che mi sono fatto negli anni. Allora, qual è la scelta ottimale per portare avanti tutte e due, appunto a meno che non siete portati, in quel caso potete migliorare anche tutto insieme per un bel po' prima di stallare. Comunque arriverete a un punto dove stallerete e dovrete comunque periodizzare. Però per gli altri che non sono così portati dovrete periodizzare quasi sempre dall'inizio, ok? Cioè soprattutto se siete a un livello abbastanza intermedio per tutti e due. Poi se siete a un livello strabase di skill, siete a HP-10, in quel caso vi basterà correggere tantissimo le attivazioni e le posture nelle skill, quindi metterle sì in mantenimento ma miglioreranno comunque perché siete neofiti anche in quelle, prendere peso molto gradualmente piano piano e il possibile pulito e riuscirete a migliorare tutte e due, fino a un certo punto ovviamente. Se siete degli atleti già più intermedi, quindi avete la vostra advanced planche, il vostro front one leg advance, half play, volete migliorare le skill ulteriormente, prendendo anche del peso dovrete secondo me attuare tutte queste strategie che ora vi dirò. Innanzitutto appunto non si può pensare di migliorare in tutto, o almeno fino a un certo punto si può, poi chiaramente stallerete. Quindi il mio consiglio è di periodizzare, ovvero dividere l'anno in delle fasi ben specifiche, dove ogni fase avrà un obiettivo. Poi se vedete che migliorate anche nella cosa che avete scelto di mettere in mantenimento, ben venga, però ricordatevi che più focus date una cosa, meglio è e non stallerete, anche perché il corpo umano ha delle capacità di recupero limitate e quindi non può reggere un volume infinito di tutto. Quindi parliamo appunto degli esempi che mi sono capitati di recente anche, di persone che appunto vogliono prendere peso, sono HP magari meno 5, vogliono arrivare HP 0, andando a sbloccare, chiamiamola così, sia planche, straddle, sia front food. Cosa fare in quel caso? Innanzitutto si chiedono foto alla persona, si valuta la BF, quindi quanta percentuale di grasso c'è, dove è distribuito il peso, eccetera eccetera. Ma di solito si periodizza in questo modo, ovvero si mette in mantenimento una cosa, si fa migliorare l'altra e poi la si alterna durante l'anno. In questo caso ho scelto di mettere in mantenimento le skill, i primi due mesi, ok? Due mesi o comunque quanto basta fino a quando la persona raggiunge il suo obiettivo di peso, che si è stabiliti insieme dall'inizio. E si mettono in mantenimento le skill, magari come primo esercizio della sessione, quindi facciamo vedere un esempio di una classica scheda di sia ipertrofia, sia appunto di mantenimento skill. Skill 1 primo esercizio, skill 2 secondo esercizio, che può essere magari qua front e qua planche o viceversa. Poi magari anche il muscle up se vogliamo mantenerlo, ma quello ok. Quante serie dedicare a queste skill di mantenimento? Qui non c'è una vera e propria risposta, io mi sono fatto delle linee guida, di solito bastano tra le 3 e le 5, ok? A sessione, perché poi se consideriamo che facciamo un'altra sessione del genere è sempre pesante, abbiamo di nuovo skill 1, skill 2, sommiamo, abbiamo tra le 6 e le 10 serie allenanti di skill a settimana, ok? Di solito, visto che questo basta per mantenere il feeling con le skill, poi magari il giorno in mezzo ci mettiamo qualche dinamica, ma veramente leggero, ok? O nel giorno di gambe, negli altri giorni, però di solito, visto che se parliamo di serie allenanti settimanali, quindi con un margine che non è troppo elevato, ma nemmeno minimo, ho visto che tra le 3 e le 5 serie giornaliere di skill, per skill dovrebbero bastare, ok? Perché vi dico di trovare il minimo volume che vi permetta di mantenere le skill? Perché se ci pensate è tutto lavoro che ruberete, tutta energia che ruberete agli altri esercizi, che sono quelli che vi interessano in quel mese, in quei mesi, ok? Noi vogliamo mantenere in sta fase le skill, portare avanti la fase di massa, o stesso discorso si può applicare anche le zavorre. Anche se le zavorre, comunque, ho visto che non sono così tassanti come una fase di massa, perché appunto non dovremo andare vicino al cedimento, potremo lavorare anche in margine, anche con margine, tutto questo insieme di fattori qua, che vi permettono anche di migliorare insieme le due cose, ok? Però appunto in una fase di massa, dove le serie iniziano ad aumentare di settimana in settimana, le forti iniziano ad aumentare di settimana in settimana, il carico pure, perché appunto voi volete ottimizzare i risultati di quella fase, non potete rimanere mediocri sperando di migliorare in tutte e due a caso. No, i miei consigli appunto sono sempre quelli di periodizzare durante l'anno, tanto è un fatto di lungo periodo, non è che dovete ottenere risultati da qui un mese, e quindi mettere in mantenimento le skill con tenute, che è la prima cosa che vi consiglio, per non perdere il feeling, o anche solo dinamiche. Non è obbligatorio mettere le tenute, io spesso le metto, ma potete anche usare dinamiche, per esempio per il front potete usare dei pulse, dei front one leg raise con l'iso in basso quando scendete, dalla negativa, per la planche potete usare degli stacchi da lì, insomma la dinamica che più preferite, che comunque vi consenta di farla rimanere stabile tutto il mese. Questa è una cosa fondamentale, ok? Non dovrete peggiorare la skill in questione, nel senso se noi partiamo troppo spinti di quella skill con un 3x8 in advanced planche, vediamo che il rear prima settimana 4-3-3, ok? Come vi ho spiegato anche nei scorsi video cos'è il rear, come lavoro io con i feedback, eccetera, vedete che di settimana in settimana, siccome il volume aumenta, sta calando, quindi qua non diventa più 4-3-2-1 ma diventa 2-2-1, cioè capite bene che il margine per ogni serie si abbassa notevolmente fino a rischiare di compromettere l'esecuzione e lì non va bene, per questo vi dico partite con più margine o addirittura se vi conoscete bene, siete in grado di valutarvi, potete andare sul discorso di autoregolazione, quindi anziché scrivere 3x8, scrivete 3x4, ok? Quindi ogni serie avrà un margine di 4, ogni serie, a prescindere dalla prima settimana, dall'ultima, dalla fatica accumulata nel corso delle settimane e così via. Quindi in questo caso tenete così fisso tutto il mese e siete tranquilli. Poi chiaramente se vedete che qua la prima settimana fate 9-6-4, ok, di secondi, all'ultima settimana fate 5-3-2, vuol dire che state accumulando troppo volume, ma ci sta, cioè nel senso se la fase di massa prevede quello, prevede anche esercizi per le spalle, per il petto, per i bicipiti, per i tricipiti, eccetera, ci sta che cagliate. Se riuscite a mantenere vuol dire che appunto state addirittura quasi migliorando, perché se mantenete gli stessi secondi con lo stesso buffer dall'inizio del mese alla fine, pur aumentando tutte le serie, eccetera, vuol dire che il volume non era esagerato, vi state adattando anche abbastanza bene. E in quel caso capite bene che vi bastano veramente quelle poche serie a settimana per riuscire a migliorare, quindi quello è un altro feedback che magari tenete in considerazione nella fase poi dove vi specializzate nelle skill, ma quello ci arriviamo dopo. Quindi scegliete appunto degli esercizi che vi permettono solo di mantenere la skill, può essere una dinamica, tutto il mese costante, senza alcun incremento, ok? Importante appunto non cercare di voler aumentare tutti i costi di settimana a settimana, le serie, i secondi, eccetera, eccetera. Tanto è solo di mantenimento. Infatti poi qua avremo tutti gli esercizi della fase di massa, che della fase di massa ne ho parlato tantissimo nel video che ho fatto uscire sul canale, vi metto il link in descrizione, comunque lo trovate sul mio canale, e prendete quei principi lì, li applicate qua, uguali, ok? Si possono fare delle considerazioni, ok? Se, vabbè, noi portiamo avanti la fase di massa, prendiamo quei 4-5 kg e poi ripassiamo alle skill. Perché appunto il nostro obiettivo magari era prima prendere un po' di massa e poi stabilizzarsi a un peso per poi ripassare alle skill. Ci può stare. In quel caso poi si rifanno dei test, quindi si vede questo incremento di peso, quanto ha influito sulle tenute che prima, ma ci facciamo dei test, magari facciamo prima max tenuta in advance planche all'inizio del mese, facciamo 3 mesi di ipertrofia, prendiamo 5 kg, rifacciamo il test max advance planche, se vediamo che abbiamo mantenuto lo stesso secondaggio con la tecnica perfetta vuol dire che siamo migliorati, come vi ho già detto anche qua, anche sulle skill, anche allenandole poco, ok? E quello è ottimo. Di solito non succede, i massimali prima si abbassano un pochettino, perché appunto dobbiamo riabituarci al nuovo peso, infatti questi massimali poi li rifate, e poi da lì avete un punto di riferimento per partire con la nuova programmazione. Importante appunto è testarsi dopo aver fatto la fase di massa per vedere un attimino il livello di ora, perché sicuramente non sarà come prima, cioè se sarà come prima appunto vuol dire che siete migliorati e dovete essere solo che contenti prendendo anche 5 kg. Però di solito non accade, quindi dovete ritestarvi, probabilmente i massimali saranno nell'immediato un po' calati, vi abituerete al nuovo peso, riprogrammate tutto con questi nuovi test di riferimento e poi cosa bisogna fare? Tutto il volume che ora avevamo fatto sui complementari, quindi panca, deep zavorrato, push up, rematore, tutti gli esercizi per la fase di massa, dovremo ribaltare la situazione, ok? Quindi dovremo trovare il minimo volume che vi permette di mantenere quella massa nuova messa, che non influisce sulle skill. Quindi se qua avevamo trovato 10 serie a settimana di skill settimanali e in fase di massa siamo andati a 25-30 per il dorso, scusatemi, quindi qua 10 serie a settimana per il front lever, qua 25-30 serie settimanali per il dorso, sto sperando numeri a casa, dovremo ribaltare quasi la situazione, quindi dovremo, ovviamente non partiamo da 30 serie a settimana di skill, però l'idea è quella di arrivarci gradualmente, comunque mettere in mantenimento la fase di massa, quindi trovare dei complementari giusto per mantenere la nuova massa messa, per non perderla, dato che con le skill è molto difficile mettere massa, perché sono delle tenute isometriche, comunque non è la cosa ottimale, ne ho già parlato, e magari scegliamo appunto solo un complementare di tirata, quindi qua un rematore, qua una lat machine, quindi 5 serie, 5 serie, abbiamo 10 serie di complementari ipertrofici da mantenere durante stabili tutto il mese, e qua ripartiamo gradualmente con le skill, 10-15 serie a settimana magari, poi dipende ovviamente se uno può fare anche tantissime tenute, tantissime serie da poco secondaggio, molto in buffer, quindi quelle non sono proprio serie allenanti, per serie allenanti intendo con un buffer di 4 o meno, quello per me è serie allenante, però ci sono tanti modi per calcolare il volume, ognuno fa come meglio crede. Partiamo appunto con 10 serie allenanti i skill, aumentiamo gradualmente nel tempo, prima aumentiamo le serie sulle skill, sia su isometrie magari anche con dinamiche, poi intensifichiamo gradualmente nei mesi, eccetera, ma quello che c'è da capire è appunto questo, dobbiamo ribaltare la cosa, quindi partiamo con il minimo volume di mantenimento per la massa muscolare, in questo caso ipotizzato 10, che può essere anche un po' di più, un po' di meno, e possiamo aumentare dall'in poi le skill, le serie o le ripetizioni, ok? O se ripetizioni o secondaggio dipende, quindi abbiamo ribaltato la cosa, prima avevamo in mantenimento le skill, e portavamo avanti il discorso ipertrofia, ora il contrario, mettiamo in mantenimento il discorso ipertrofia per i complementari muscolari, per non perdere la massa acquisita, e si può pensare di aumentare le skill, proprio perché c'è più volume che possiamo tollerare nella settimana, siccome avremo poco volume sui complementari. Su cosa bisogna stare attenti però? Vabbè, innanzitutto bisogna prendersi, prendere le misure, ovviamente se si è eseguiti da dei nutrizionisti meglio, se no potete studiare tranquillamente il discorso nutrizione, trovate in giro tantissime informazioni a riguardo, vi studiate giusti i principi, ma sapete che per andare in massa dovete applicare un surplus di almeno 200-300 calorie, ok? Potete fare una cosa graduale, ogni settimana aumentate di 100-200, o potete aumentare già da subito, dall'inizio del mese, di 300 e vedere un attimo come rispondete, poi quelle sono varie strategie. E appunto vedere un attimo all'incremento di peso, anche come rendete in allenamento, quello è un feedback importante da tenere anche in considerazione. Ovviamente poi quando tornerete, quando ritornete a fare skill, dovrete stare in normo calorica, quindi abbasserete un po' le calorie e starete in normo calorica, non prenderete più nuovo peso. Addirittura si può pensare di fare un mini cut, se vi siete sporcati troppo, si fa un mini cut, lo si fa coincidere con sta prima fase di rintroduzione alle skill, che appunto sarà molto graduale ragazzi, cioè se avete mantenuto 10 set allenanti per skill per 2 mesi, non è che poi da lì di settimana in settimana aumentate di 3 set, proprio perché i tendini, le articolazioni devono riadattarsi gradualmente, sia al nuovo peso, ma anche proprio perché non le state facendo da un bel po', a quel volume che magari eravate abituati prima di iniziare sta fase, quindi per questo vi dico, sfruttate quel mese di cut per quasi di mantenimento per tutte e due, oppure potete fare anche una cosa più graduale, quindi prendiamo un ipotetico grafico, questo è il volume dei complementari per l'ipertrofia, questo è il volume sulle skill, potete fare una cosa graduale, quindi a X, aumentate leggermente il volume delle serie allenanti sulle skill, abbassate gradualmente nelle settimane, magari siete alla fine di quella fase di massa, diminuite gradualmente i complementari, le serie allenanti su, per l'ipertrofia, ok? Oppure potete tagliare già da subito il volume sull'ipertrofia, e poi aumentare gradualmente quelle di skill. Allora, su cosa bisogna stare attenti per sfruttare al massimo sta cosa? Bisogna stare attenti, secondo me, a quello che vogliamo poi fare delle skill, nel senso cosa vogliamo prendere? Se è low-up, io vi consiglio di scegliere dei complementari utili all'low-up per svilupparlo più avanti. Se andate in palestra, la lat machine monobraccio è ottima, perché potete produrre un ottimo stress, un'ottima ipertrofia, perché appunto è una lat machine molto scalabile, potete andare in sicurezza, in accedimento, eccetera, e in più avrete il vantaggio del sapervi già sbloccare a una scapola sola, quindi tirare monobraccio, e questo vi darà poi vantaggio anche quando dovrete, vorrete riallenare low-up, vorrete prendere confidenza con le archer, eccetera, eccetera. Stessa cosa per il front, mi viene in mente il pull-down, un esercizio molto scalabile, strautile, permette di fare massa sul dorso, permette di prendere peso, ed è anche un po' più propedeutico al front lever. Stessa cosa per le alzate laterali, per le alzate frontali e per la military, ok? In questa fase di massa possiamo sfruttare al massimo il surplus e appunto, siccome vogliamo prendere nuova massa muscolare, sfruttare tutti quegli esercizi accessori che poi ci potranno essere utili anche per le skill, ok? Oltre magari a fare panca, perché è molto più ipertrofica rispetto a un dip sul petto, poi dipende se abbiamo possibilità di andare in palestra o no. Poi non è necessaria sempre la panca, però ci siamo capiti, rispetto a un dip e se dovessi scegliere è molto meglio. Poi se non possiamo andare in palestra, ne ho già parlato in quel video, prediligiamo dei push up furam zavorati che vanno benissimo. Ok, niente, spero che con questo video vi abbia chiarito un po' le idee a riguardo come portare avanti tutte e due e noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre ragazzi vi ricordo se siete interessati al percorso di formazione che sto portando avanti scrivetemi all'email qui sotto se volete diventare coach, se volete essere seguiti da me o dal mio collaboratore link in bio per il sito. Grazie a tutti.